Eccoci qui, un saluto a tutti, come state? Una buona giornata da Milanello, la casa dei milanissi su YouTube. Vi invito come sempre a commentare numerosissimi, a lasciare un like e a iscrivervi qui sotto, mi raccomando, ci teniamo. Lasciate un bel like, intanto metto, voi non la vedete però contestualizzo, mettendo su la tv l'home page di Milanello, così mi fa sentire ancora più Milanello. Allora ragazzi, ci sono un paio di notizie grosse, purtroppo ancora sul fronte, calcio scaumesse, purtroppo con ancora nei premi, come dico io, il Milan, purtroppo ancora durante la pausa della nazionale. Un film già visto, una novità che riguarda Tonali e una novità purtroppo che è arrivata nella serata, nella tarda serata di ieri, che riguarda Florenzi e adesso voglio capire insieme, ragionare insieme a vociata come ci piace fare, possibili conseguenze sul giocatore, al giocatore, sul Milan e evidentemente che cosa può accadere. Iniziamo subito però con il tema Tonali, perché proprio ieri un collega mi raccontava che per quanto riguarda Tonali sappiamo tutti la sentenza legata a quello che ha fatto quando era al Milan, lui però adesso rischia un'ulteriore squalifica aggiuntiva anche in Premier League con la federazione inglese che sta cercando di capire se lui giocava anche quando era a Newcastle e così buttata lì è anche probabile, non possibile, forse è anche probabile visto che si è detto che ha questa dipendenza che adesso sta provando a risolvere. Quello che però riguarda il Milan, poi veniamo al discorso purtroppo legato a Florenzi, e che un collega mi raccontava ieri che Newcastle si sta mettendo un po' di traverso sul pagamento della prossima rata, una delle rate dei famosi 70-80 milioni di euro prezzo patuito per accessioni di Tonali la scorsa estate. Si vuole approfondire, aspettare, capire, insomma Newcastle sta provando a non pagare questa rata, non so su che basi, non so quale sia il vero obiettivo, quali sono gli elementi, se si può fare. Di fatto ricorderete Grassani, esperto di diritto sportivo, aveva detto che Newcastle potrebbe rivalersi sul Milan anche senza la conoscenza piena del club rosso nero su quello che stava accadendo. Non ho mai capito perché, ripeto, ieri un collega mi raccontava questo, se così fosse sarebbe, insomma, un intoppo economico, anche perché una rata vale tanto rispetto a un trasferimento di 70-80 milioni di euro, un intoppo economico che non di poco conto. Vedremo quali sono le evoluzioni, sperando che il pagamento venga completato secondo le varie tappe stabilite in quella cessione, in quel contratto di cessione. Voltiamo pagina e purtroppo ieri la notizia che riguarda un nostro giocatore che oggi è nostro, perché Tonali si è venuto a scoprire quando non era più del Milan. Florenzi oggi è un nostro giocatore. Devo dire che il nome di Florenzi era un po' chiacchierato anche le scorse settimane, ecco. Non corone, metto da parte. Quello che filtrava da fonti investigative è che ci fosse, ad esempio, un altro giocatore del Milan, esperto, vi ricordate, vi avevo detto proprio questo. Si parlava però anche di un giocatore dell'Inter, di altri della Roma, insomma, un discorso che doveva allargarsi tanto, che a ieri era fermo a Fagioli, Tonali e Zaniolo, che da ieri riguarda anche Florenzi, che è entrato nell'elenco degli indagati della Procura di Torino e accusato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Reatto previsto dall'articolo 4 della legge 401 del 1989. È indagato perché avrebbe giocato quindi su attività o piattaforme illegali. E' indagato a livello penale, non a livello sportivo. Questo è il primo dissinguo che dobbiamo fare. Verrà ascoltato Florenzi nei prossimi giorni, credo già questa settimana, non so se domani o dopodomani, per capire, insomma, qual è la sua versione. Però, attenzione, ripetiamo, lato non sportivo, giustizia ordinaria. E' successa la stessa cosa di fatto con gli altri, chiudo scusa, di nuovo, con Tonali e Fagioli che sono stati puniti, anche dalla giustizia sportiva. Zaniolo che è stato interrogato e ha detto, ho scommesso sì su piattaforme illegali, ma Blackjack cose non calcio. Quindi la sua figura a oggi, è, diciamo così, stando così le cose, quella di Zaniolo è extra calcio. La speranza, perché ha il Milan nel cuore, ma per tutti gli appassionati di calcio, lo dicevamo prima ancora che ci fosse di mezzo il Milan, quando c'era di mezzo Fagioli, dispiaceva tantissimo, la speranza è che Alessandro Florenzi sia estraneo ai fatti. O si ha giocato, speriamo che abbia giocato su poker, cose diverse, ma non sul calcio. Questa è la grande speranza. Se avesse giocato sul calcio, sarebbe innanzitutto una grandissima delusione, perché non capisco il ventenne che lo fa, il ventenne ricco che va a giocare su qualcosa che non può fare, per noia si dice, per me per ignoranza, ma il ventenne ha meno elementi culturali, ha meno maturità rispetto all'ultra trentenne che Florenzi. Quindi sarebbe una grande delusione se avesse giocato sul calcio, sarebbe una grandissima delusione, mi auguro di no. Se ha giocato sul calcio, è limpido, solare, lineare, corretto, giustissimo, che anche lui paghi come pagano gli altri. Sarebbe una delusione in più, perché già Tonali, seppur non sia più al Milan, per me è stata una grande delusione. Si aggiungerebbe la delusione di Florenzi, acquita dal fatto che, parliamo di un giocatore di 32-33 anni, mi sembra di sì, con più bagaglio, con più strumenti per capire che è una cosa che non è da fare, anche se pensi che non ti becchino. Florenzi è un 91, quindi ha 32 anni e farà tra qualche mese 33 anni. Esperto, senatore, leader, sarebbe per me davvero grave. Poi che cosa succede? Intanto che siamo, ripeto, sempre di mezzo. Si parlava di tantissime squadre, esce il Milan, un altro giocatore del Milan e dispiace, perché siamo un popolo rosso e nero qui su Milanello. Dall'altra parte, in un momento in cui piove, grandina. Perché, ripetiamo, giustizia ordinaria. Se ci sono responsabilità, è probabile che adesso ci sia anche la lente della giustizia sportiva e se lui ha giocato sul calcio, è automatico una squalifica di mesi, di diversi mesi. Se va incontro a una squalifica, ragionando insieme a voce alta, come ci piace fare, è un bel casino. È un grave danno al Milan, sarebbe un grave danno al Milan. E laddove non ci va gli infortuni, ci va le scommesse. Perché Florenzi, miracolo, quest'anno non ha avuto un problema fisico. Lo scorso anno era sempre fermo, ha giocato 200 minuti in tutta la stagione. Quest'anno, Caragrazio, non aveva anche avuto ancora problemi, sta a vedere che magari viene sottratto da questa brutta, triste vicenda. Speriamo tanto di no, ma se viene scolificato per mesi, noi abbiamo Teo Hernande sulla sinistra con alternativa nessuno, se non Bartesaghi. Calabria sulla destra con alternativa nessuno, se non Musa, che per me quel ruolo a regime potrebbe anche farlo, ma deve farlo studiandolo, applicandosi in allenamento, non così come è successo con il Lecce. Quindi, se così fosse, sarebbe un grave danno, perché perderemmo in un colpo solo un terzino destro e un terzino sinistro. Oltre che un giocatore di carisma nello spogliatoio, che oggi ha un po' poche figure di esperienza, di leadership, di carisma. Florenzi è importante anche per questo. Un'altra sosta con queste vicende, un'altra sosta con, in questo caso, un giocatore di Mila, non un ex giocatore di Mila, ma un giocatore di Mila stesso. E quando ci sono queste situazioni, devi sempre vedere il club sapeva, non ha informato, c'è qualche messaggio, cose, insomma, il discorso poi rischia di allargarsi, anche se per gli elementi che abbiamo oggi a disposizione direi non è il caso di allarmarsi, però se viene squalificato sono problemi. A quel punto imparavo anche io con un amico, vabbè, compri qualcuno al suo posto. Sì, però calma, calma, perché dovessi compararmi due, uno a destra e uno a sinistra. E se compri un terzino a destra, comunque tu devi fare il difensore centrale, devi fare l'attaccante, non è che adesso puoi fare tutto, l'idea era facciamo il difensore, facciamo l'attaccante, se va via cronici facciamo il centrocampista e poi magari atticipiamo Miranda che abbiamo già bloccato per giugno. Se Miranda arriva a gennaio, Miranda fa la fase a sinistra, se lui viene squalificato e credo che eventualmente si saprà in tempi, credo, brevi e sulla destra però se non c'è Calabria vi giocare Musa. purtroppo è una stagione fino a questo momento a oggi brutta perché siamo in classifica dove non vorremmo essere e c'è una situazione che ci sfianca, quella degli infortuni che è stata troppo sottovalutata, della quale parleremo perché abbiamo scoperto anche altre cose e ora c'è pure questo elemento qui che che non va bene anche perché Florenzi stava facendo per me una buonissima stagione. Sicuramente adesso rischia di essere un po' turbato dal punto di vista psicologico e speriamo che non ci sia questa squalifica altrimenti devi provare a a prendere un centrale che ti può fare anche l'esterno oppure adatti veramente Musa però ragazzi la coperta non è corta di più per gli infortuni con questa vicenda rischia di essere ancora più corta e poi si fa fatica perché ribadisco quando il Milan ha tutti gli effettivi era in testa la classifica quando è iniziato a togliere a destra a sinistra per gli infortuni il Milan è crollato e ora quest'altro elemento sinceramente ne avremmo fatto tutti ne avremmo fatto tutti 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 volentieri a meno vediamo quali sono le evoluzioni questo incontro sarà molto importante e speriamo che lui non ha giocato sul calcio altrimenti sarebbe stato sarebbe sciocco deludente molto deludente a livello umano e a quel punto è giusto che paghi ma lascerebbe al Milan un vuoto che devi provare a colmare in estate aggiungo una cosa voglio essere più costruttivo più più ottimista più più propositivo fai un prestito ma al che vada fai un prestito magari anticipi una miranda fai un prestito a destra detto che i prestiti sono sempre rischiosi ricordiamo Serginio d'Este cioè non è che a generale ti danno uno in prestito che c'entrò in un progetto ti danno uno che ha i margini sperando che Calabria sia sempre bene però vedete che ad esempio l'ultima l'ha saltata cioè è stato sostituito non ci voleva ragazzi c'è da mettersi le mani nei capelli perché sembra che ci sia la nuvoletta di Fantozzi qualcosa ce lo siamo cercato qualcosa ci sta venendo addosso e sono senza parole comunque speriamo che Florenzi sia estraneo sarebbe altrimenti una grandissima delusione speriamo poi che il discorso zonale di punto di vista economico non vada verso un non pagamento della rata e che si possa svoltare perché è un momento complicato e arriva un ulteriore macigno seguiremo insieme le evoluzioni ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti con tante notizie e anche indicazioni che sono arrivati ieri sera da Ocaforne parleremo magari più tardi commentate lasciate un like iscrivetevi e datemi la vostra soluzione se no Musa che però l'altro giorno ha fatto male però deve essere lavorato insomma è un caos incredibile pazzesco un abbraccio ci vediamo più tardi grazie a tutti